Quattro nuove impronte nettamente impresse nell'argilla rossa del deserto di Sonora. E l'ultima scoperta dei paleontologi messicani, che non hanno dubbi, le ha lasciate un adrosauro, il cosiddetto dinosauro beccodana, tra circa 72 milioni di anni fa. Il canyon di Esqueda, nel nord-est dello stato, a circa 270 km dalla capitale Ermosillo, secondo gli studiosi era un luogo piuttosto affollato, nel giurassico. Una via di transito per migliaia di esemplari, secondo Raffaele Paceco, che dirige il locale Parco dei Dinosauri, tanto che le ultime impronte rinvenute portano a 40 il numero di quelle scoperte di recente. L'animale che le ha lasciate doveva avere una lunghezza tra i 12 e i 14 metri e si muoveva in equilibrio sulle zampe posteriori.